Mi dà proprio l'input, la testardaggine, la determinazione, soprattutto la voglia di fare cosa ma non ci fermiamo mai. Quindi sicuramente qui avrà modo di lavorare ma ha già avuto modo che ha di mister Cichello e soprattutto da quello che quest'anno... Nel senso che quella di Molfetta è stata un'esperienza molto bella, è stata un'esperienza interessante perché era il primo anno di Serie 1 di quella società ed è stata un'esperienza il Presidente Calipo perché finalmente di essere riuscito finalmente ad avvicinare la mia vita professionale e sportiva perché io ci credo anche in quel rapporto lì con gli atleti, ci credo ai rapporti con la tifoseria, con la società, ha fatto un po' il riassunto di quello che sarà già in campo. Per te lo hai confessato, noi ci siamo sentiti... Grazie a tutti quanti voi... Ho portato con me nell'arrivo qui a Vivo Valencia con un passo indietro, perdonami ma quella è proprio l'ultima cosa che voglio sentirmi dire, questa che è Giancarlo da lì. E quindi è bellissima come domanda e ti ringrazio per poter anche nulla togliere alle esperienze semplici del fatto. Perché oggi è assente il suo figlio e il primo anno in Superlega. Noi, come hai detto tu... Già il mister Cichello ha chiesto... Perché il campionato è difficile. Loro sicuramente... Soprattutto conoscere l'impostazione che ti verrà data dalla panchina. È una bellissima nata ammolpetta, l'anno della produzione. Giancarlo è importante il loro aiuto. Perché il calore del ciclo può fare veramente... Ci credo perché è un... Da anni perché li ho avuti gli avversari tutti e due in serie B, quando anche io facevo la serie B può portare un rapporto sia in cambio palla sia in fase break e anche a livello... Il valore professionale, umano è quello che possono dare. Penso adesso... Penso mancherà l'opposto. Quindi siamo addirittura da arrivo. Questo? Bene, grazie. Ecco... Tecnico... Tu ti senti un libro... Proprio delle possibilità... Per cui... Sarà sicuramente... Dal punto di vista del carisma comunicativo ha fatto centro. Quindi mi piace sottolineare questo... Giuseppe Piacenza Civitanova... Grazie.